La comunità resiliente riesce ad adattarsi al cambiamento. Io credo che questa sarà una bella stagione resiliente e darà delle bellissime sorprese. Sindaca, una serata dedicata a tutti i professionisti sanitario, a una decisione per il lavoro, e come attività? Assolutamente. Noi dobbiamo sempre essere grati a tutti i mesi, anche di lockdown, non ha smesso mai di lavorare, peraltro in situazioni di estremo rischio. Siamo a tutto il personale medico sanitario che ha lavorato in ospedale, quindi a contatto con persone, così via, a contatto con persone che erano anche in condizioni molto critiche, non mollando maglia, aiutando e dando solo supporto a ogni singolo numerato. Inoltre, quella della stagione dell'opera e delle serate dedicate a chi si è speso per la nostra città è una tradizione che abbiamo inaugurato sin dal mio insediamento come presidente del teatro dell'opera. Il palco presidenziale, salvo appuntamenti istituzionali, è dedicato sempre a persone che in qualche modo aiutano la nostra città, le prove generali allo stesso modo. E in questo modo abbiamo portato tante persone all'opera, persone che non erano mai state.